E' molto importante nel gioco di ruolo caratterizzare i personaggi, che la storia ne guadagna molto. Maria, ti ricordi quando Mary ha conosciuto Sandy? Il povero Jack Ryan. No! Ehi, ma tu chi cazzo sei? Che ci fai in casa mia? Jack, no! Bastardo, togli le mani di dosso! Tranquilla, adesso non ti farà più del male. Grazie. Grazie.